Aficionado pubblico De Glippari, ben ritrovati per una nuova sconcertante puntata di torta di riso in studio Enrica Balbontina e Andrea Ceccom, ma basta scolcezio al momento del nostro sommario. Nella puntata di oggi andremo in Russia per conoscere la bizzarra storia di Irina, la postina scorbutica di Novotgorod. Per salute e benessere, oggi andremo a scoprire le fogne termali, l'ultima frontiera del wellness. Finalmente una spa alla portata di tutti, questa puntata Miami. E ancora, per i motori il nostro fido Jimmy Ghizzotti ha provato per voi il nuovo camion trasporta uova della Drozza. Tutte le immagini del crash test. E tante altre battaglie perse da zimbellare, se no a fine mese non ci pagano ci tocca andare a lavorare, veramente. Parole saggissime le tue, partiamo quindi con la prima rubrica. Signore e signori, è il momento di Atleti Incompleti. Poi noi le buttiamo completissime, per noi sono completi, va benissimo. Sì, sì, guardate questo, per esempio, che completezza. Ha perso la scarpa, piuttosto che niente. E anche quasi la vita. Una bella ancata. Vai vecchio. Cosa fai col bastone in mano vecchio dove stai andato? Lui vorrebbe rimorchiare, pantinando. Esatto, suonando le clave. Invece arrivano delle ambulanze per lui e basta. Oh, che prova da deficiente. Questa qua vi faceva un bello scinautico sulla sabbia. Sulla sabbia, esatto. C'è una contraddizione. Doveva finire anche nei tenaci incapaci. Ma doveva forse, però in realtà finirà solo all'ospedale, più tardi con calma. Tutto tagliato, che bello. Andiamo avanti, lasciamolo lì. Questo lungo ragazzone sta provando a fare un doppio saldo mortale. Tutta la schiena, che sarà un metro e quaranta, ci dà proprio di piatto. Va neanche giù tantissimo. Forse la parte della fronte non se l'è neanche bagnata. Scinautico estremo, direi. Questo è proprio estremo. Sì, proprio estrema unzione gli hanno dato dopo. Ma è rimasto vivo secondo te? No, come no? Un bel tuffo dove l'acqua è più blu e dove l'acqua è 10 centimetri. Soprattutto è blu, ma è 10 centimetri. È bassa la squadra. Sai come ti mischia le ossa quell'onda che sta arrivando? Invece questo si è mischiato vari gin tonic nella pancia prima. Senti l'inquadratura e senti che è importante questo momento. Certo, ma tenendo conto che sono solo le tre del pomeriggio può dare di più. Sì, del 1924. Ovviamente, quando il gin era gin. E va per brughiere così. Ma bravo. Lasciamolo nella sua brughiera ghiacciata e passiamo alla nostra rubrica alternativa. Perché chissà fa. Chi non sa. Signore e signori, così o cosà. Il famoso così. A breakdance con la moto. Siamo tra i cosiacchi, quelli che ce la fanno con la... Addirittura questo fa, guarda che numerillo. Siamo tutti molto bravi. Inutile questi qua. Non danno neanche il senso di fare una puntata. Ricordiamolo. Rischiano la buccia. Comunque questa gente non è che lo fa così. Anche questo. E questo lo fa cosà? Una facciata orribile. I cosacchi, diciamo, rischiano più dei cosicchi. E cosà? È come non dovreste farlo. Lui lascia la moto providenzialmente. E' bello questa... Lascia proprio un incausto per la sabbia. Ha voluto guadare il fiume, bravo. E si è girato la testa come un polpo. Avanti il prossimo. Anche lui sta cercando di guadare il fiumicciato, ma non ce l'ha fatto un pelo. Non ce l'ha fatto. No, è la moto che non ce l'ha fatto. È tutto da rifare, diciamo. È tutto da rifare, come diceva il grande Gino Barclay. Il ginettaccio. Rivediamolo, rigustiamoci come perde una moto da 4.500 euro. Ma d'altronde se doveva finire il fiume, era il suo giorno. Che è un buon affoglio, eh, guarda bene. L'altro guadro. Ma allora siete fissati, tutti così fate. Questo guadro era quasi arrivato, cioè a un metro dalla meta. Ma bravo. Sei in televisione, complimenti. E questo prende un ramo negli occhi. Impari a fare furia al cavallo del West con quella moto. Eccolo lì. Bravo. Continuiamo pure sempre nel motocross più bieco. Ok, bravo. No, questo bravo neanche. Massimo dolore col minimo sforzo, direi. Lui lascia la mottina tanto del figlio che gli frega. Questo spara nel giardino dei vicini. E' un'interessante forma di riscossione d'Agostana del denaro. Fanno così. Speriamo che quelli di qui Italia non imparino. Qui c'è un massacro. C'è poco da esultare perla. Passiamo alla prossima rubrica, signori. La rubrica degli scherzoni. E dei loro protagonistoni, ossia i babbioni burloni. Si capisce se lo scemo, lo scherzato e lo scherzato. Guardiamo questo, è una specie di candid camera. Sì, questo qua gli avanzavano un po' di specchi. Sì, sì. E allora cosa faccio? Comunque è un bel modo di utilizzare. Il porterà un po' di spiga. O uscire una faccia di un manichino insanguinato. Eh, non è male. Eh sì, disegnano tutti la corsica nelle mutande. Come dicevo. E gli aspetti vorrei vedere voi. Non c'è niente da ridere perché è una scena montata. A fortuna sono in bagno già direttamente. A me piace di più la scena quando fa... Questo qua è Adriano. Sì, certo. E questo invece è Wayne Rooney del Manchester United quando aveva nove anni. Che belle cose. Era in giardino con gli amichetti a giocare e vedete. È così che ha cominciato a mettere il pallone invece che fa giochi stupidi. Sì, basta. Datemi una palla che questi giochi qua mi ha perso già un occhio. Ecco, infila un furetto nei calzoni del padre che sta facendo la penichella. Furetto, furetto. Dove andrà a finire il furetto? Sicuramente fa tutto il percorso della gamma. Padre è un vecchio alcolizzato, dorme col cappello e il sigaro acceso. Non si sveglia finché il furetto non gli esce dalla cipa. E mi sembra abbastanza... Beh, qualcosa si muove finalmente lì. E quella uova gli abbiano dato fuoco a Portofino. A quanto ridere! Avete sentito questo uno scaso della scorreggia finta? Una boiata incredibile che abbiamo detto alla regia di non mettere. Questi ridono, ma c'è poco da ridere in realtà. Noi vi vogliamo evitare anche il rumore di flatulenze. Magari state anche mangiando, quindi fidatevi. E ridono molto in Australia, questa boiata. Ma qua non fa ridere niente. Gli affantetta regiava niente. Anche il giapponese se ne va dicendo. Ma che scherzo di me. Ma non ha detto questa cosa qua. Dai, passiamo alla prossima rubrica che... Me la vedo io. A livello personalmente aggiungerei... Anche se iniziamo subito con un fake. C'erano filmate che è finto. Lo vediamo subito questo qua. Non è... Dovrebbe essere lui la giusta a tutto. Sì, sì. Il deniro di sta scena è lui. Ma il cappellino che vola, lui che cade dalla scala. Ah, meraviglioso. Passiamo al prossimo. Speriamo sia vero. Questo diceva già più vero, eh. C'è proprio il physique du rôle del non-bessilo. Si capisce se è in casa sua oppure se sta scasinando. Per lui sta provando... Sta partendo dalla Maniglia. Purtroppo la Maniglia... E li finisce. La Maniglia lo delude fortemente. La Maniglia però ci delude lui ma... Dà delle gioie a noi, eh. Comunque. E' andata come è andata. Ma siamo quindi al prossimo. Ah. Dimostrazione di pompieri, eh. Pompieri si nasce, si sa proprio. Guardate cosa fa. Fuomo l'ha spento ma nel frattempo sta distruggendo un quartiere. Adesso non riesce neanche a spegnere il fornello, vabbè. Alcolizzati di Baviera. E' come se ciuccia le dita per non perdere manco un goccio. Ci lascia una retina, eh, però. Ci lascia una retina perché però aspira la birra e basta con l'aspirazione fa scatenare una fuoriuscita da Vulcano. Vabbè, bella scena. Complimentoni. Sei un idiota dentro per inciso. Complimenti e sei su torta di riso. In Italia ci lamentiamo quotidianamente dei volantini che troviamo nella posta. Ma guardate un po' in Russia, cosa fanno? Una tecnica innovativa. E così spacca la vetrata e te li butta dentro. Inizialmente sembrava che volessi buttare via la neve dalle scarpe, invece no. No, 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 è come un atto di tecchismo gratuito. Brava. Andiamo un po'. Questo è il rimorchio, costava un sacco di soldi, era dalla Fashington. Hai fatto bene a dire costava perché vedete l'inclinazione del piano e la faccia del papà. E guarda la figlia, come dire, è mo' ti ha diseredo. Ben fatto papi, ma andiamo nel mondo del selvaggio. C'è scimmiati. Cioè la gente che viene attaccata o importunata delle scimmie. Sì, non sono drogati in crisi d'astinenza, ma sono coloro che vengono scimmiati dalle scimmie. Una caccale dalle scimmie, ecco la scimmie. Per esempio, questa scimmietta. È da una zannata al bambino, giustamente. E ricordiamo sempre, Andrea, tutti gli intendi di questa cosa che quando una scimmia ti morde... ...il solito può attaccare la psittacosi, una malattia pericolosissima. Perché a casa scherziamo, ma è veramente molto pericolosa. Oh, questi sono scimmie di Gibilterra. Della rocca di Gibilterra, queste scimmiotte, questi babbuini si sono impadroniti dalla rocca e spadroneggiano. Spadroneggiano questa turista, si fa addirittura... Il vecchio la tiene. Le mani delle zizze dalla scimmia. È una scena brutta, portate via i bambini. E con un'altra scimmia anche attivita viene il riso da una vecchia che però se la prende col piccolo... Fa bene, fa bene perché si stacca il naso a morsi anche. Sono scimmie aggressive. Alcora le scimmie di Gibilterra, le riconosciamo subito. Si abganciano la rocca lì bella... A loro disposizione. Si appena la borsetta. Scippano anche. Si mangerà una macchina fotografica. E questo se si ribella ha ragione, guardate come l'hanno appagliacciato, povera bestia. Come un animale da circo, si sta veramente ribellando in tutta la maniera e morde tutti. Per fortuna è legato perché farebbe una strage. C'ha ragione, poverino. Voltiamo pagina ma rimaniamo sempre nel mondo animale, cioè... Balla coi cani. L'arte, mettila da parte. E non fare niente. Ma ci ha messa da parte, guardate, in Bangladesh. Sarà da una facciata. Appena è entrata proprio nel cerchio. Non si ha mani nei cappelli, mamma mia. Qui è un tablao flamenco di serie F proprio. Sì, di Bari, lo fanno a Bari. Lo fanno a Bari vecchie. Il flamenco imperversa. E questa comunque ha fatto una bella figuraccia, però vedi, fanno sempre così. Si ripresa molto bene però, si ripresa con un stile perché il barlinino ha il suo stile. Poi perché hanno un manager che picchia a duro anche. Sì, invece da sola, da soli si è incapaci tutti a fare questa scena, signorina. Ascoltiamete, imbriachi maggio, alterati in qualche maniera. È quello che aiuta tanto, è quello che aiuta. Sai che sembri ginger, Rogers. Ti manca Freddaster lì vicino. Ok, fai il ruotone, non ce la fa. Peccato. Per noi è un no. Andiamo avanti. Per me è già un sì questa, invece io la premierei comunque. Guarda che stile. Danze d'altri tempi. E anche figure di M di altri tempi. Se ne batte la ciolla continua in perternica. Ma ormai il danno è fatto. Il danno è fatto ma anche lei è fattissima. Nel nostro panorama solo lei ci mancava. E per la parità dei sessi ti diciamo ma brava. Perché questi non sono mai? Sono tarantolate veramente. Il ballo delle ciccione. Si sono fatti dare la scuola elementare per poter farlo. Uno in smoking incredibilmente. L'avevo batto a un suo zio. Ancora protagonisti di Balla Goigani. La cuoca deve ballare con una donzella sulla seggia. È bruttissima la scena ma per fortuna vi risparmiamo la musica che fa schifo anche quella. La musica probabilmente fa più angoscia ancora che vero. Si capisce dal ballo e dal profilo. Arriva un porta sfiga e la vecchia accade. Povera donna. Siamo indoor in un posto che si risiede. Questo è un mezzo bordello. Comunque vabbè, vediamo. Si prende un cavalletto nella schiena ma tanto la sua specialità non è la danza. Ma neanche la fotografia è sempre quella. E su questo dubbio e su quale sia la specialità della ragazza noi intanto scendiamo il canale a fare un po' di pubblicità. Enrico Valmontini e Andrea Ceccon vi rimandano a tra poco perché torta di riso non è finita.